Robin Gosens all'Inter, un super colpo di calciomercato oppure un rischio flop? Amiche e amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo episodio, un nuovo contenuto che prende spunto da alcuni commenti che ho potuto leggere in queste ore ed in questi giorni sul nostro canale, sui nostri contenuti durante le nostre dirette, ma non solo. Ovvero, c'è chi sostiene che andare ad acquistare dall'Atalanta è un rischio. Perché? Perché fuori dal contesto Atalanta i giocatori poi non vanno così bene come invece sono riusciti a fare sotto la gestione Gasperini a Bergamo. Quindi, per questo motivo, c'è chi dice che andare a prendere Robin Gosens è un rischio in questa fase, soprattutto se ci aggiungiamo sopra anche la questione del problema fisico di cui poi parliamo dopo all'interno di questo episodio di oggi. Prima di parlarne, però, vi spiego un po' questo contenuto, nel senso che abbiamo deciso allora di fare una ricerca per capire se è vero quello che alcuni appunto stanno scrivendo nei commenti e quello che alcuni stanno sostenendo. Ovvero, è vero che l'Atalanta vende solo dei flop, banalizziamo così, oppure per meglio dire, è vero che chi lascia l'Atalanta poi floppa in un contesto differente. Abbiamo deciso di andare a guardare la carriera, lo storico, delle dieci cessioni più onerose della storia recente dell'Atalanta, quindi le dieci cessioni più ricche della storia recente dell'Atalanta. Ci siamo rifatti alla classifica stirata dal portale Transfer Market e ora lo vediamo insieme, una ad una queste cessioni, uno ad uno questi calciatori per poi fare insieme delle considerazioni finali e magari anche delle riflessioni e delle previsioni pure sul futuro di Gosens all'Inca. Riscrivetevi subito al canale, così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti, neanche uno dei nostri contenuti e partiamo con questa classifica a scalare dal decimo posto delle cessioni più ricche dell'Atalanta fino ad arrivare al primo e al decimo posto troviamo Mattia Caldara. Una cessione un po' particolare tra l'altro perché Caldara nel 2017 è stato ceduto dall'Atalanta alla Juventus, ma di fatto nella Juventus non ha mai giocato. La cifra complessiva attorno ai 19 milioni di euro e nell'estate del 2018 però passa al Milan nell'ambito dell'operazione Bonucci con una valutazione tra l'altro molto molto elevata, attorno addirittura ai 36 milioni di euro. In questo momento si trova però al Venezia, la sua carriera non è andata come ci si poteva aspettare, è stato molto sfortunato anche a causa di problemi fisici, adesso si sta rilanciando al Venezia con 20 presenze all'interno di questa stagione, un classe 94 potrebbe tornare ad alti livelli, diciamo che però le premesse per ora non sono state mantenute. Prossimo nome, quello di Timothy Castagna, tra l'altro alcuni lo hanno di nuovo anche accostato all'Inter, lui al momento si trova all'Eister, è stato venduto per circa 20 milioni di euro, un esterno belga che all'Eister in realtà comunque si sta confermando su buoni livelli. Gli è andata bene soprattutto la prima stagione in cui è riuscito a mettere a segno anche due gol e quattro assist. In questa seconda parte di stagione, in particolare nell'ultimissimo periodo, è stato frenato un po' da qualche problema fisico soprattutto e quindi ha perso un po' di posizioni nelle gerarchie. Per ora però si può considerare un acquisto comunque importante, che si sta disimpegnando bene in Premier League, dove tra l'altro ha recentemente dichiarato che ha trovato anche un modo di vivere il calcio differente e in cui si sente molto più a suo agio rispetto a quello che aveva vissuto in Italia. Per cui Timothy Castagna probabilmente non è esploso come valutazione, anche se il transfer market oggi lo valuta quasi 30 milioni rispetto ai 20 pagati dall'Eister. Terzo nome, è un nome che ci riguarda, siamo all'ottavo posto in classifica delle cessioni più ricche della storia dell'Atalanta, troviamo Roberto Gagliardini, circa 20,5 milioni di euro più 2 milioni di prestito oneroso. era arrivato con grandi premesse, con grandi aspettative, c'era anche chi addirittura lo paragonava e lo ribattezzava per certi versi il nuovo Pogba bianco. Ecco, non è andata decisamente così, però comunque io devo dire che Gagliardini ha ottenuto 151 presenze fino a qui con la maglia dell'Inter, è stato impiegato e ha meritato la fiducia di vari allenatori, da Spalletti a Conte e adesso a Simone Inzaghi, di sicuro non ha proseguito quel percorso di crescita che ci si poteva aspettare, tutti immagino ci aspettassimo un Gagliardini, soprattutto pagato a quelle cifre in quel periodo storico che potesse diventare un titolare nell'Inter ma anche nella nazionale italiana, così non è andata, però si è rivelato comunque un giocatore ancora oggi utile alla causa nerazzurra. Discorso simile probabilmente per Gianluca Mancini che dall'Atalanta è passato alla Roma per 21 milioni di euro, però Mancini, a differenza di Gagliardini, nella Roma, che comunque è a un livello sotto chiaramente di competitività rispetto all'Inter, è diventato un centrale, un difensore titolare di fatto della formazione romanista, di sicuro anche lui però, nonostante abbia superato le 100 presenze con la Roma, non è diventato quel difensore top in Serie A che ci si poteva aspettare dopo la cessione da parte dell'Atalanta. Un nome avvolto al momento ancora nel mistero, diciamo così, a quello di Ahmad Diallo, un colpo particolare perché il Manchester United ha deciso di sborsare 21,3 milioni di euro per questo talento giovanissimo ormai un anno fa e di fatto era un giocatore che ancora doveva affacciarsi al grande calcio italiano, il Manchester United evidentemente ci ha visto qualcosa a lungo termine, infatti per il momento non sta trovando molto spazio chiaramente in prima squadra, dove comunque ha già collezionato nove presenze, ma di sicuro il giudizio su Diallo lo potremo tirare una linea più avanti negli anni, adesso è ancora troppo presto. Brian Cristante saliamo ancora in classifica, dall'Atalanta anche lui è passato alla Roma per 22 milioni di euro, ai quali si sono aggiunti poi circa 5 milioni di euro per il prestito oneroso e dopo aver vissuto di fatto una stagione veramente clamorosa nell'Atalanta di Gasperini nell'anno 2017-2018 se non ricordo male, quel Cristante possiamo dire che si è visto a Bergamo, che aveva fatto anche venire qualche rimpianto probabilmente al Milan, che forse l'aveva ceduto troppo presto, si diceva ai tempi, ecco alla Roma non si è di fatto confermato, almeno per il momento, è un classe 95, quindi può sicuramente ancora crescere da questo punto di vista, non si può parlare clamorosamente di flop, si è saputo rendere utile nella causa Roma ed ha collezionato 154 presenze in tutto, con 9 gol e 9 assist, però anche da lui sicuramente ci si aspettava di più. Chi invece non ha potuto rendere al meglio a causa anche qui di problemi fisici è sicuramente Andrea Conti, che era passato dall'Atalanta al Milan per 24 milioni di euro, era arrivato al Milan nell'estate del 2017, voluto fortemente da Vincenzo Montella, soprattutto ai tempi in panchina, arrivava da una stagione clamorosa all'Atalanta con 8 gol prima della sua esperienza in rosso-nero appunto, però il rosso-nero è stato frenato da tantissimi, tantissimi infortuni, tra cui anche una rottura del legamento crociato, diverse operazioni, ha provato a rilanciarsi al Parma, dove però è arrivata la retrocessione, adesso si è trasferito alla Samp, anche qui un giocatore che non ha mantenuto le premesse, ma anche per un pizzico di sfortuna che ha incontrato durante la sua carriera. Saliamo e ci avviciniamo, arriviamo sul podio delle cessioni più ricche dell'Atalanta, troviamo Frank Cassi, passato dall'Atalanta al Milan per 24 milioni di euro, più 8 milioni di prestito, sembrava veramente vicinissimo alla Roma, poi il Milan piazzò un affondo decisivo, arrivava da una stagione straripante con l'Atalanta e tutti sognavano un po' questo colpo e al Milan inizialmente forse non ha convinto più di tanto, anzi ha vissuto una stagione, una stagione e mezza, anzi di grandi difficoltà, ma viveva anche lui in un contesto Milan non semplicissimo ai tempi, poi però ha cresciuto nettamente di livello e possiamo dire che oggi si è imposto come uno dei migliori centrocampisti in Serie A, non a caso essendo in scadenza di contratto al termine della stagione si sta accendendo una grossa bagarre e si stanno accendendo molte voci di mercato con top club internazionali pronti a darsi battaglia appunto per arrivare a Frank Cassi, che con oltre 200 presenze con la maglia del Milan sicuramente lui non si può considerare un flop dopo l'esperienza a Bergamo e quindi al Milan. Un altro che non si può sicuramente considerare un flop, penso che saremo tutti d'accordo, è Alessandro Bastoni, che è un prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, anche se poi in prima squadra non ha avuto grande spazio, infatti l'Inter lo ha acquistato per una cifra che ai tempi aveva suscitato anche scalpore, circa 31 milioni di euro, che però se li rivediamo oggi fanno anche un po' sorridere quelle polemiche, perché oggi Bastoni sicuramente vale molto molto di più alla luce anche dell'ultimo rinnovo di contratto con l'Inter. Aveva fatto una grande stagione in prestito al Parma, poi con l'Inter, soprattutto con Conte, è riuscito a crescere in maniera esponenziale, oggi è un titolarissimo dell'Inter, è probabilmente il futuro, anzi è il futuro della nazionale italiana, uno dei difensori più interessanti in Europa, è solo un classe 99, ha già 101 presenze con la maglia dell'Inter, quindi anche questo sicuramente non è un flop. Giudizio invece contrastante sul giocatore più costoso, di fatto la cessione più onerosa della storia dell'Atalanta, ovvero Dejan Kulusevski, che dall'Atalanta alla Juventus è passato in un affare da circa 35 milioni di euro, e con l'Atalanta però aveva giocato poco, anche lui si era imposto a Parma in una stagione in cui aveva attirato su di sé le attenzioni di tanti tanti club, e c'era anche l'Inter fortemente interessata, arrivato alla Juventus dopo l'ottima stagione al Parma, per una cifra rilevantissima che sicuramente ha pesato. Non è andato benissimo, ha conquistato, ha collezionato sopra le 70 presenze con la maglia della Juventus, con 9 gol e 10 assist, un bottino importante, ma non è riuscito a ritagliarsi quello spazio da titolare, e anzi in questi giorni si sta parlando anche di una sua possibile partenza, tra l'altro anche con formule del prestito con la Juventus, che sta cercando di rilanciarlo e valorizzare comunque un investimento importante, fatto poche sessioni di mercato fa. Questi erano i dieci nomi, questo Kulusevski quindi la cessione più onerosa della storia dell'Atalanta, cosa possiamo dire quindi in definitiva dopo questa panoramica? Che sicuramente qualcuno dei calciatori importanti venduti dall'Atalanta poi non hanno rispettato le attese, qualcuno per motivi tattici, chi per sfortuna con infortuni, altri invece si sono sicuramente imposti, e alcuni sono diventati dei veri top. Mia opinione quindi, e poi voglio sapere anche la vostra, che ne pensate dei singoli calciatori, quale ritenete anche la cessione più flop tra quelle che abbiamo visto, scrivetemelo nei commenti. Comunque, mia opinione, non si può dare la colpa al sistema Atalanta se un giocatore poi fuori dal sistema Atalanta non rende come ci si poteva aspettare, o meglio, il fatto che all'interno di un sistema funzionante come quello Bergamasco ogni minimo ingranaggio rende meglio se tutta la macchina chiaramente procede spedita. Quindi lo vediamo anche oggi nell'Inter, buttar dentro oggi un nuovo giocatore o anche un panchinaro in un Inter che viaggia spedita, che ha un'idea tattica funzionante, che sta andando bene ed è in fiducia, è un conto, è una cosa sicuramente molto molto diversa. Buttar dentro invece un colpo, anche da 25 milioni, anche un giocatore importante, ma in un Inter allenata da De Borra, per quella gestione sciagurata che ricordiamo benissimo, beh, chiaramente è un'altra cosa. Quindi, chiudendo su Robin Gosens, veniamo all'attualità del nome che ci interessa di più. Il passaggio dall'Atalanta all'Inter personalmente di Robin Gosens non mi preoccupa. Dal punto di vista tattico e dal punto di vista delle caratteristiche precise, questo calciatore ha tutto per integrarsi al meglio in quest'Inter, sulla scia anche di quanto fatto da Denzel Dumfries, che può considerarsi secondo me molto simile come caratteristiche. L'unica incognita, e questo lo ripeto, è sulla condizione fisica di questo calciatore, ma come dicevo anche nell'episodio pubblicato ieri, uno, sarà sicuramente lo staff medico a valutare in maniera profonda e attenta e sicuramente hanno una competenza superiore alla mia per dire se riprenderà al meglio o avrà problemi, e due, anche se rientra a fine febbraio, come sembra, quest'Inter secondo me ha dimostrato di poter reggere fin qui, anche senza di lui, che quindi diventerà un'arma importante in più per il finale di stagione e soprattutto per la prossima stagione. Tra l'altro, un Gosens in più, con un Gosens in più, l'Inter si mette, secondo me, anche in una posizione di forza differente nella trattativa per il rinnovo di Perisic, che può ancora riaprirsi, perché non è ancora detta l'ultima parola, come stiamo dicendo in questi giorni. Se Perisic vuole restare, sa che oggi non è imprescindibile, perché l'Inter si è cautelata, e quindi probabilmente le cifre del nuovo ingaggio possono anche essere ritoccate un po' al ribasso. Se invece Perisic vuole a tutti i costi un ingaggio che al momento sembra non essere alla portata dell'Inter, è già pronto il sostituto. Questa è la logica. Per cui, al momento, non ci resta ovviamente che aspettare il rientro di Robin Gosens, non ci resta che sostenerlo, come dobbiamo sostenere ogni singolo giocatore dell'Inter, e poi far parlare il campo per capire se sarà l'ennesimo grande affare della nostra dirigenza, o un altro pacco, tra virgolette, rifilato dall'Atalanta. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, quali sono le vostre sensazioni, le vostre aspettative sull'arrivo di Robin Gosens all'Inter. Scrivetemelo nei commenti. Vi ricordo che se volete potete sostenere il nostro progetto tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto. Grazie ai vostri abbonamenti possiamo portarvi ogni giorno nuovi contenuti, nuovi episodi, tutte le novità che stiamo lanciando in questi giorni. Possiamo portare tutti i giorni in diretta alle 19.30 le ultime notizie e tenervi in compagnia. Quindi è solo grazie al vostro sostegno se possiamo permetterci di fare questo. Senza il vostro sostegno, la macchina Passione Inter purtroppo si fermerebbe. Quindi vi ringrazio e vi ricordo che se volete potete sostenerci qui sotto. Se mi avete seguito fino a questo punto fatemelo sapere. Questa volta facciamo con l'emoji del pollice alzato. Dai, facciamo la tradizionale emoji del pollice alzato. L'aspetto nei commenti e vi aspetto poi in diretta come ogni giorno alle 19.30. e vi aspetto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.